Continua a perdere pezzi il centro storico di Favara dove negli ultimi due giorni altri tre cedimenti strutturali hanno causato il crollo di parti di vecchie abitazioni. Il più episodio venerdì sera con il distacco del cornicione di una casa disabitata all'ancolo delle vie Colaianni e Nunzionasi. L'immobile si trova in una zona di particolare traffico a pochi passi dal municipio di Piazza Don Giustino e della chiesa di San Calogero. Nel tardo pomeriggio di ieri in via Silvio Pellico a sbriciolarsi al suolo è stata una parte di una palazzina fatiscente anche questa disabitata da tempo. Sul posto i vigi del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno transennato l'area interessata al crollo. Il terzo cedimento strutturale è avvenuto questa mattina in via De Fonti. A crollare grosse porzioni di un vecchio stabile abbandonato a diversi anni. Nella zona sono intervenuti i pompieri, gli agenti della polizia municipale, i carabinieri e i responsabili dell'ufficio tecnico comunale. Anche il sindaco Rosario Mancanella ha effettuato un sopralluogo per verificare di persona la situazione. Fortunatamente in tutti e tre i casi non si sono registrati feriti. Ma tra i cittadini di Favara cresce la paura per il timore di nuovi crolli. Le infiltrazioni dovute alle piogge dei giorni scorsi ha peggiorato la staticità di vecchi immobili. Dal centro storico favarese a quello di Agrigento dove sono cominciati gli interventi di messa in sicurezza dell'ex albergo Gorizia nella discesa Gallo che da anni risulta pericolante. I lavori saranno effettuati dalla protezione civile che successivamente si rivarrà sui proprietari. Una palazzina vicina invece sarà messa in sicurezza dagli stessi proprietari.